Salve a tutti e bentornati in questo, possiamo dirlo, ultimo episodio di Harry Potter e la Pietra Filosofale per PS1, io vi ringrazio per aver visto gli episodi precedenti, ringrazio a chi ha lasciato dei commenti, ringrazio Panta che ha fornito anche non solo le clip per alcuni momenti didattici sulle speedrun, ma dei veri e propri aneddoti per quanto riguarda per esempio il time save per alcuni momenti nel gameplay. Ringrazio in generale chiunque si è fermato anche per un po' di secondi a rivangare magari un passato in cui giocava questo gioco sulla PS1 come me. Fatti questi ringraziamenti iniziali io direi che possiamo procedere a quello che vi avevo annunciato, ovvero l'episodio di approfondimento sulle figurine e in generale sulla storia. Come vedete e come avevo, no promesso, però come avevo sperato siamo riusciti a completare il gioco al 100%, tra l'altro con un buon quartarello d'ora in meno rispetto alla mia run principale e ne sono molto contento perché significa che vi ho portato un'esperienza completa di questo gioco e magari per chi appunto voleva assistere ha avuto modo di vedere tutto il gioco e ha avuto modo magari di imparare qualcosa che magari non sapeva appunto. Quando si completa il gioco di Harry Potter e la Pietra Filosofale accade che il gioco si splitta tra virgolette perché possiamo giocare il Quidditch e quindi giocare a raffica partite dopo partite che se vi piace il Quidditch in realtà è anche una bella cosa però si limita solo a quello. E poi possiamo giocare il gioco ma in realtà, come vedremo adesso, non si tratta di giocare il gioco di nuovo oppure di poter esplorare Hogwarts liberamente ma appunto abbiamo a disposizione solo il foglio magi e possiamo solamente sfogliare queste pagine. Non abbiamo assolutamente modo in questo gioco in questo gioco di esplorare Hogwarts o fare altre cose una volta completata la storia principale. Possiamo solo quindi perderci anche nella bellezza a mio parere di questi artwork sulle figurine che sono molto molto carini. La prima figurina che ci viene mostrata inversamente all'ordine numerico è la numero 100. È la figurina di Harry Potter, il bambino sopravvissuto. Non c'è molto da dire su Harry Potter e infatti anche la descrizione del gioco è praticamente nulla. sappiamo che Harry Potter è un ragazzino che è riuscito a scampare alla maledizione senza perdono di Lord Voldemort, l'anatema che uccide, la vada che davra, ed è riuscito a sconfiggerlo undici anni dopo nei sotterranei dei Hogwarts, come abbiamo visto nell'episodio scorso. La prossima figurina è quella di Albus Silente che, come ci dice anche il gioco, è l'attuale preside di Hogwarts ed è considerato il più potente mago della sua epoca, quindi dei tempi moderni. È particolarmente ricordato Silente per la grande battaglia del 1945 contro Grindelwald, il mago scuro Grindelwald ed ha, tra le sue imprese più riuscite, la scoperta dei dodici usi del sangue di drago e in generale anche l'apporto al lavoro di Nicholas Flamel o Flamel per quanto riguarda i suoi studi di alchimia. Come ci dice anche la descrizione del gioco, a Silente piace la musica da camera e il bowling. Dettagli interessanti. L'artwork anche qui, a mio parere, è molto carino. Ed è la figurina numero 101. Passiamo alla figurina numero 96 che è Angist, il folletto dei boschi, o The Woodcroft in inglese. Sappiamo di questo folletto che è stato scacciato dal suo villaggio di Babbani, probabilmente per via della diversità della sua specie, è scappato in Scozia dove ha fondato il villaggio di Hogsmeade che, per chi conosce la saga, sa che è il villaggio dove gli studenti dal terzo anno in poi possono passare le vacanze o in generale dei pomeriggi liberi, dove ci sono locande e negozietti molto carini. Ad esempio famoso è il negozio di dolci Mielandia e si pensa che la sua casa, la casa che lui ha costruito, sia diventata poi il celebre pub, i tre manici di scopa, che nei film viene visto per bene nel sesto capitolo, ovvero il principe mezzosangue. Hogsmeade però nei giochi non è praticamente mai esplorabile, se non nel terzo capitolo, ovvero il prigioniero di Azkaban, ma non vi voglio dare troppe informazioni inutili. Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è un gioco che può essere giocato su PS2 e su PC. Se volete sapere cosa ci faranno Harry, Ron e Hermione a Hogsmeade, vi invito a recuperarvi qualche gameplay su YouTube, vi consiglio. Uno YouTuber che quando lo guardavo io andava molto forte e faceva dei video, a mio parere, super divertenti, che è The Real Zeopapion, vi lascerò il canale qui sotto, e lui ha portato il gameplay del gioco su PC, ovvero una versione che non ho giocato io, perché ho giocato quella per PS2, che è leggermente diversa. Passiamo alla prossima figurina, che è Roderick Plumpton, è un cercatore, un giocatore di Quidditch, famoso perché ha il record britannico di cattura del boccino, della cattura più veloce, come leggiamo, tre secondi e mezzo. Cioè letteralmente lui l'ha visto e l'ha preso. Ed era cercatore nella nazionale inglese, che come vi ho detto qualche episodio fa, è anche nel gioco della Coppa del Mondo di Quidditch. La prossima figurina è Rowena Ravenclaw, che in italiano ha avuto nei film la sfortunata traduzione di Cosetta Corvo Nero, viene nominata così dalla professoressa McGranit nel secondo film. In ogni caso è la fondatrice della casa di Corvo Nero, ovvero la casa di tutti quegli studenti che sono un po' più ligi, attenti allo studio, assetati di conoscenza e in generale più brillanti. È stata però cofondatrice perché Hogwarts è stata fondata da due streghe e due maghi, i più potenti della loro epoca, che era nel generico medioevo, ci dice il gioco. E Rowena Ravenclaw è stata solo una dei quattro tasselli fondamentali per la creazione di Hogwarts. E il prossimo tassello è appunto Helga Hufflepuff, che in italiano ha avuto la traduzione di Tosca Tasso Rosso. Tosca Tasso Rosso che ha appunto fondato la casa di Tasso Rosso, ovvero Hufflepuff, ovvero la casa degli studenti più umili, più gentili, più che altro attenti alle relazioni sociali, a non far arrabbiare nessuno, insomma, quegli studenti che stanno un po' nel loro, che sono a mio parere ben rappresentati da Newt Scamander, ovviamente parlo del Newt Scamander presentato nei film. Un po' meno, a mio parere, rappresentati da Cedric Diggory, che appunto, sempre, se avete visto i film, se avete seguito la storia, sapete chi è. E a mio parere è più un esempio dei Tosso Rosso Newt che Cedric. Anche questo artwork a mio parere è molto carino. E andiamo al prossimo, uno dei miei preferiti, innanzitutto perché ha la figurina numero 69, ed è assurdo. È Bertie Bott, l'inventore delle gelatine tutti i gusti più uno. C'è poco da dire, un genio, un pazzo, e a mio parere ha anche lui un artwork molto bellino. Vediamo la prossima, che è Ignatia Wildsmith, la strega che ha inventato la polvere volante. Scusate, qui ho avuto un piccolo problema tecnico con l'audio, non so perché in questo breve frammento del video non si capisce un cazzo. Infatti poi dopo questa clip audio ci sarà anche un brusco taglio a una clip successiva dove c'è un'altra figurina. Quello che ho detto in breve è il funzionamento della polvere volante, ovvero praticamente è una polvere che va gettata dentro un cammino e nominando una destinazione del mondo magico che corrisponde ad un altro cammino di una fitta rete di comunicazione tra comignoli che ha detto appunto metro polvere, ci si può spostare di grandi distanze anche con relativa facilità. Salazar Serpeverde è stato anche lui cofondatore di Hogwarts e ha fondato la casa di Serpeverde, la casa degli studenti più ambiziosi, magari anche tendenti alle malefatte, all'egoismo, ma è soprattutto la casa degli studenti che ambiscono al potere e sono anche abbastanza disposti a tutto per raggiungerlo. Non è necessariamente una cattiva qualità, si è semplicemente avere delle grandi ambizioni, però ovviamente, visto che abbiamo esempi come Voldemort e Malfoy per la casa di Serpeverde, abbiamo ovviamente soprattutto nei film la concezione che i Serpeverdi siano quelli cattivi per definizione, però è da interpretare. In ogni caso andiamo alla prossima figurina, che è uno degli artwork più belli che c'è secondo me, che è Edgar Stroger, è l'inventore dello spioscopio. Lo spioscopio che è un oggetto magico, simile a una trottola di vetro, che è molto utile perché si illumina e comincia a girare quando qualcuno con cattive intenzioni si sta avvicinando e sarà molto utile ad Harry nei capitoli successivi, poiché gli verrà regalato da Ron per il suo tredicesimo compleanno. Prossima figurina troviamo Godric Grifondoro, fondatore della casa di Grifondoro, la casa degli studenti coraggiosi, anche un po' scape strati, come è anche Harry, come sono Ron, Hermione, Neville e tutti gli studenti che abbiamo un modo di conoscere. È la casa di quelli che sono definiti buoni, ma in realtà dipende sempre dalle interpretazioni, perché comunque sono anche gli studenti dall'indole più avventata e un po' appunto incline all'infrazione delle regole. Anche l'artwork di Godric è, a mio parere, molto carino. Abbiamo poi Cassandra Babatsky, che è la scrittrice del libro Unfogging the Future, che in italiano, se non sbaglio, l'hanno semplicemente tradotto con Predire il futuro. È un manuale di divinazione, una materia che viene studiata a Hogwarts, che tra le altre cose ha un capitolo dedicato alla lettura delle foglie del tè. Celebre è la scena della lettura delle foglie della tazza di Harry, nel terzo film, che mostra appunto, quando mai, uno scuro presagio per il suo futuro in Minend. Prossima figurina abbiamo Bowman Wright. È stato l'inventore del Golden Snitch, il boccino d'oro, una delle palle nel gioco del Quidditch, ma abbiamo fatto anche sufficienti approfondimenti sul Quidditch, quindi io direi di passare avanti. Abbiamo appunto Newt Scamander, l'autore di Animali Fantastici e dove trovarli. In un artwork che lo riprende molto più avanti con l'età rispetto al personaggio recitato da Eddie Redmayne nella serie di film di Animali Fantastici, ma è comunque un personaggio molto interessante perché tutto quello che si sa sulle creature magiche l'ha scritto lui, l'ha riportato lui, l'ha studiato lui. È un gran personaggio a mio parere. Prossima figurina, ci avviciniamo alla fine. Abbiamo la Fata Morgana. Chi non conosce la Fata Morgana e tutte le sue vicende con Merlino e Re Artù. È stata la cerrima nemica del mago Merlino, sorellastra di Re Artù e strega delle arti oscure. A mio parere se volete recuperarvi un po' di storia del circolo arturiano e magari anche approfondire la storia di Morgana, non al 100% accurata, però quantomeno sempre a mio parere molto godibile da vedere, quindi a livello visivo. C'è la serie tv Merlin che ha cinque stagioni con episodi da circa un'ora che secondo me ritrae molto bene la storia soprattutto di Morgana che è una strega che in realtà non è sempre stata completamente cattiva e nella serie si capisce anche il perché. Prossima figurina abbiamo Derwent Shimpley che per una scommessa ha mangiato una tentacolo velenoso ed è sopravvissuto, solo che adesso è viola. Non ho idea del perché una cosa del genere dovesse essere documentata con una figurina, però l'artwork è carino quindi ce lo facciamo andare bene. Figurina numero 2 abbiamo Cornelius Agrippa, un autore del Medioevo barra umanesimo che è stato perseguitato per i suoi scritti probabilmente appunto sulla magia. Ultima ma non per importanza, il mago Merlino, il mago più famoso di tutti i tempi. Era consigliere e mago in aiuto a Re Artù e direi che c'è poco altro da dire sul Merlino. E con questo abbiamo concluso la collezione di figurine per questo gioco. Io di nuovo vi ringrazio per aver visto questo episodio extra e non posso che augurarvi come al solito una buonanotte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.